Grazie a tutti, lo dicevo l'anno scorso, non puoi essere in famiglia e mi piace ritornare qui tra di voi. Ho preso la parola, primo per essere stupito perché ogni anno il numero di persone che viene qui aumenta e questo è proprio quello che diceva Sergio, il lavorare quotidianamente per far passare i temi della pace, ringrazio anche la nutrita delegazione di Vanzaghesi che c'è oggi che hanno sfidato la giornata per venire qua. Volevo prendere la parola e ricordare, ringrazio appunto, si parlava prima di Siria, io penso che sul nostro territorio abbiamo fatto un lavoro tutto l'anno sulla Siria e mi corre l'obbligo di ricordare che abbiamo tre persone, oggi due erano alle cronache, due ragazze che non se ne fregano ma sono andate in Siria proprio per da un lato capire com'era la situazione e cercare di dare una mano, che sono appunto Vanessa e Greta che sono nelle mani probabilmente di una banda di rapitori che hanno bisogno di utilizzare il terrore per perseguire i loro scopi e quindi vorrei ricordarle perché tra l'altro sono della nostra zona, della Bergamasca, non ne pare esorto e quindi sperando che la Farnesina riesca a entrare in contatto con i rapitori e cercare di risolvere la situazione, ricordiamo in Siria abbiamo padre dall'olio di cui non si sa più nulla e ricordarlo spesso aiuta a tenere in vita la sua testimonianza dei trent'anni che ha fatto in Siria proprio dalla parte dei poveri e di chi aveva bisogno e che dalla Siria scappava. Ricordo sempre che, e si parlava prima della schiavitù, uno dei mali peggiori, una schiavitù, io pensavo venendo qui, è la schiavitù della suefazione, vediamo ogni sera immagini dalla Siria, adesso sempre di meno, vediamo immagini di guerra, siamo a suefatti, è normale quasi la guerra e dico che dobbiamo cercare di dire di no e cercare di capire quanto noi siamo responsabili, quindi non essere a suefatti ma ricordarci che noi siamo responsabili di questo che accade intorno a noi. Ricordo che in Siria i carri armati che erano disegnati dai bambini sono passati da qui, sono passati dall'Italia, c'è stata una grossa commessa che è arrivata negli anni 90 in Italia e ha favorito un sacco di lavoratori italiani, delle officine Galileo che hanno sistemato questi carri armati russi e ha sistemato le torrette proprio per mirare meglio gli obiettivi dove dovevano sparare. Quindi se il conflitto in Siria va avanti, anche perché l'Italia, la Germania e la Francia in particolare sono quelli che forniscono le armi per il conflitto di chi vuole sottomettere il proprio popolo. Allora noi siamo responsabili, io mi sento particolarmente responsabile perché lavoro in questa ditta che ha fatto questi carri e quindi tutte le volte che si parla di Siria mi sento responsabile in parte, anche se non lavoro su questo direttamente, di questo conflitto e vi invito a ricordare voi e tutti quelli che conoscete che il conflitto in Siria dipende tanto dalle armi che vengono prodotte in Italia e lo dico questo perché c'è una possibilità, la legge 181 del 90 che difendiamo sempre fortunatamente in qualche modo mette una regolamentazione a questo, ma grazie a tutto il lavoro delle associazioni pacifiste è partita una campagna di raccolta firme per fare una legge di iniziativa popolare per chiedere che il Parlamento legiferi sul tema e istituisca dei corpi civili di pace e la possibilità di normare meglio questi temi. È una campagna che penso che il Comitato Pace potrà prendere nel corso dell'anno, si parla di raccogliere 50.000 firme entro, mi sembra, maggio e quindi come amministrazioni se vogliamo andare avanti questi temi basta portare la delibera in giunta, il Consiglio a seconda di come si vuole e far sì che nei nostri comuni si possano raccogliere le firme per istituire questi corpi civili di pace in Italia e c'è tutta la modulistica che spiega come si fa e come sostenere questa campagna perché il modo migliore per non fare la guerra e quindi per fare la pace è non avere armi da dare ai contendenti, se non le vendiamo si riduce il pericolo di avere la guerra. Grazie a tutti e buon 2015!